La copertura era limitata a piazza Sordello e a piazza Mantegna, con la dovuta calma anche legata ovviamente alle difficoltà che tutti ben conosciamo finanziarie, però con una spesa al di sotto dei 20.000 euro siamo riusciti a decuplicare la copertura del wifi in città, tanto per intenderci abbiamo tutta la zona dei lungolaghi, abbiamo piazza Virgiliana, abbiamo buona parte di Corso Vittorio Emanuele, di Via Chiasi, abbiamo esteso a tutta piazza Cavallotti tutta la zona intorno al teatro sociale, ovviamente la zona centrale, cioè i portici, via Roma e quant'altro. Era un'esigenza avvertita da tutti, evidentemente è un servizio che farà molto piacere ai turisti innanzitutto, i quali potranno navigare gratuitamente nella nostra città e utilizzare quindi il mezzo informatico per conoscere tutte le potenzialità turistiche, gastronomiche e quant'altro della città, ma è una cosa che farà molto piacere anche ai nostri cittadini, in particolare credo alla fascia giovane, non a caso ci troviamo a Sant'Agnese che è un po' il polo delle politiche giovanili del Comune di Mantua, lo abbiamo scelto apposta come luogo di questo incontro, di questa presentazione e crediamo che farà piacere proprio a questa fascia della nostra popolazione.